Ma non si può far proprio nulla, mio Dio. Monique. Non ne ho il coraggio. Ma perché? Perché mi è perso di leggere nei tuoi occhi una calma assurda. Strano, a mio padre non andava bene un uomo quando si trattava di me. Giudicava un po' l'antica. È un signore, non è un signore. È serio, non è serio. Mio marito invece gli piacque subito. Forse perché gli dava un vero affidamento. E lo ricordo ancora quando dovete dirmi che Adalberto gli aveva chiesto la mia mano. Pariva quasi che si vergognasse ad occuparsi di certe cose.